Ricordiamo un attimo a noi tutti, anche a chi ci sta guardando, cosa fa esattamente la Salvadè, qual è il mercato che va a presidiare, quali sono le soluzioni che Salvadè realizza attraverso le sue macchine? Salvadè realizza macchinari per il finissaggio tessile e divise in tre famiglie, il vaporizzaggio dopo stampa, i tumbler, l'asciugatoio e le calandre per il transfer del tessuto stampato poliestico. La macchina che oggi ha indubbiamente più successo è il vaporizzaggio dopo stampa, perché oggi è trainato da quello che è la stampa digitale che sta dando un impulso molto forte e che è una, diciamo che una grossa rivoluzione per quanto riguarda la tecnologia proprio di stampa. In questo ambito noi siamo riusciti a cogliere subito la problematica derivata da questo nuovo cambiamento tonologico e adattare le macchine all'esigenza che questo crea.